Dopo l'airdrop di Optimism che valeva circa 1500 dollari, rilasciato più di 250.000 utenti, uno dei layer 2 più attesi di Ethereum, adesso arriverà un altro airdrop, ovvero quello di Arbitrum. Arbitrum che è un altro layer 2 super super atteso che in realtà invece è già attivissimo e che vedremo a breve ha una TVL, un Total Value Locked, davvero davvero alto, arrivando al sesto posto in classifica. Il token di Arbitrum non è stato ancora lanciato e molto presto arriverà con l'airdrop proprio come Optimism e se non vuoi perdertelo e vuoi riceverlo, allora devi assolutamente guardare questo video perché ti spiegherò appunto cosa fare per ricevere questo airdrop. Ciao a tutti amici Cryptomani e benvenuti in questo super nuovo video. Prima di iniziare, come sempre, andate a distruggere il tasto di like per supportarmi con l'algoritmo di Ubi. Sapete che per me è molto molto importante e nel frattempo sto già registrando il video nel quale vi dirò come faccio io a trovare tutti gli airdrop più importanti che vi permetteranno di guadagnare anche se non avete praticamente budget per investire in criptovalute. Adesso iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto e iniziamo. Prima di dirvi però come ricevere l'airdrop voglio farvi vedere una cosa super super importante andando su DeFi Yama che è un sito sulla quale si possono vedere moltissime informazioni riguardo la DeFi e cliccando su Chain ragazzi, quindi andando a vedere le blockchain, andiamo a vedere un po' di informazioni importanti e andando a cercare Arbitrum è al sesto posto per TVL, quindi per Total Value Locked, quindi totale ammontare bloccato sulla blockchain con oltre un miliardo più 7,57% negli ultimi sette giorni, arrivando addirittura ad impensierire Polygon al quinto posto che è il layer 2 più utilizzato di Ethereum, quindi ragazzi molto molto vicino a Polygon si distanzia per circa 200 milioni quindi non tantissimo, con 128 protocolli molti molti di meno rispetto a Polygon quindi immaginate il potenziale di questa blockchain ed è quella di cui cercheremo appunto di ricevere l'airdrop addirittura ha superato Solana, ovviamente, che è una blockchain layer 1, vi ricordo e quindi molto molto interessante e sicuramente l'airdrop di questa blockchain dovrebbe essere diciamo sostanzioso adesso però andiamo a vedere subito come ricevere l'airdrop prima cosa che dovete fare ragazzi è andare sul sito chainlist.org e collegare ovviamente il vostro bullet Metamask se non avete uno ancora mi sa che dovete assolutamente scaricarlo ovviamente se ce l'avete collegato a Ledger molto meglio e andare ovviamente a selezionare la blockchain di Arbitrum se ancora non ce l'avete ovviamente aggiunta al vostro bullet Metamask cliccando su Add to Metamask se non la trovate nella prima interfaccia la andate a cercare ovviamente Arbitrum eccola qui la trovate e fate aggiungi a Metamask adesso a me non la aggiunge perché io ovviamente già ce l'ho dopo aver fatto questo passaggio un altro super passaggio importante è quello di utilizzare il bridge di Arbitrum quindi ovviamente andare a spostare dei fondi degli Ethereum sulla nostra blockchain Arbitrum e per farlo ovviamente dobbiamo detenere un po' di Arbitrum sulla blockchain principale quindi sulla blockchain di Ethereum dobbiamo detenere un po' di Ethereum e importarli utilizzando ovviamente il bridge tutti questi link ragazzi io ve li metto in descrizione sotto al video ovviamente ma comunque è bridge.arbitrum.io vi porta su questo bridge collegate sempre il vostro wallet e ovviamente andate a spostare chiudete questa pagina se non ci interessa i nostri Ethereum io adesso già l'ho fatto vedete il balance sul mio Arbitrum ci sono degli Ethereum andate a mettere ad esempio 0,001 Ethereum esempio banale io vi direi di spostare almeno 0,02 Ethereum io dei passaggi già li ho fatti quindi adesso non mi serviranno molti ma comunque io consiglio di spostare un po' di Ethereum per fare i vari passaggi in questo caso vi uscirà un riepilogo adesso cerchiamo di farlo uscire eccolo qua vi uscirà il sommario, un riepilogo in tutto quello che avverrà quanto pagherete di fidi transazioni eccetera eccetera e poi cliccherete sul tasto move funds to Arbitrum 1 e ci metterà circa 15 minuti vi uscirà una tabella nel quale uscirà un countdown finiti i 15 minuti avrete spostato degli Ethereum da la blockchain principale ad Arbitrum 1 altro passaggio importante utilizzare Uniswap che è l'exchange decentralizzato che conoscerete tutti selezionare la lette Arbitrum e utilizzare appunto Uniswap per fare degli scambi quindi prendere un po' di Ethereum e comprare magari dei token GMX può essere magari un token interessante comprare dei GMX o degli Umami di Umami Finance che sono dei protocolli comunque su Arbitrum che quindi potrete poi andare ad utilizzare il senso è quello di utilizzare quanti più protocolli e fare quante più azioni possibili proprio sulla blockchain di Arbitrum quindi una cosa come lo scambio sulla rete Arbitrum l'importazione tramite il bridge e utilizzare vari protocolli che vedremo sono tutte azioni che ovviamente ci renderanno elegibili per l'airdrop quindi magari prendete un po' di Ethereum una parte anche piccola e andate a comprare dei token come ad esempio GMX o altri token come ad esempio Chainlink LiveOpeer eccetera eccetera altra azione importantissima comprare un NFT di Arbitrum Odyssey questi NFT ancora devono essere rivelati andare su questo sito che vi metterò comunque in descrizione stratosnft.io collection di Arbitrum Odyssey è questa qua verificata fate molta attenzione cliccare su uno degli NFT ovviamente adesso cercherò di farlo qua insieme a voi e andare ovviamente assicurarsi di avere io cercherò di fare quello di comprare quello buy now senza fare offerte voi potete decidere anche di fare qualche offerta e ovviamente andare assicurarsi di avere abbastanza quantità di Ethereum ovviamente sulla rete di Arbitrum cliccare su buy now purchased NFT ovviamente confermare la transazione all'interno del wallet vediamo se ci riesco conferma ed ecco qui aspettare che la transazione venga processata e avremo acquistato l'NFT per ricevere l'Airdrop vi ricordo come sempre che personalmente per spostare gli Ethereum fare trading spot e futures utilizzo BitGet quindi se magari andate a comprare gli Ethereum per spostarli sulla rete Arbitrum potete tranquillamente utilizzare BitGet senza nemmeno fare la procedura di verifica quella dei documenti quindi vi iscrivete dal mio referral link che trovate in descrizione oltre a supportarmi e ricevere i bonus potete utilizzare BitGet per comprare Ethereum decidere poi di prelevarli appunto proprio sul vostro wallet Metamask per fare tutte le operazioni inoltre poi vi ricordo che trovate una playlist che vi metto qua in alto di tutte le funzioni di BitGet ho registrato tantissimi video riguardo il copy trading riguardo le varie funzioni di earn, launch, pull, launchpad e i grid bot di trading ad esempio di BitGet quindi anche i bot di trading e tutto quello che riguarda questo exchange trovate la playlist in alto se volete andare a vedere come funziona un'altra cosa importante che possiamo fare è utilizzare l'app Radiant o meglio questo protocollo questa applicazione decentralizzata al link che trovate comunque in descrizione è questo qua il link e per poterla utilizzare mettere in staking magari qualche Radiant proprio il token della piattaforma anche per guadagnare ma poi potete decidere anche magari di depositare Ethereum, Dio, SDC o SDT io decido di comprare dei token RDNT li ho già acquistati li scambiate per Ethereum sul SushiSwap quindi cliccando sempre su quel link fate questo scambio e poi tornate sulla piattaforma e andate a mettere appunto in staking questi token RDNT vediamo non mi ricordo più manager RDNT vediamo qui eccoli qua max 37 li blocchiamo con un APR del 129% approviamo ovviamente la transazione paga un interesse molto molto alto questo è un protocollo che attualmente non ha un TBL altissimo ma comunque è giusto per utilizzare la piattaforma e fare quante più azioni possibili come vi dicevo proprio utilizzando i maggiori protocolli i protocolli di Arbitrum è un'altra cosa che potete fare andare adesso andare su Defailama dove eravamo prima cliccare su Arbitrum e vedere i protocolli e cercare di utilizzare tutti i protocolli magari con maggior TBL continuiamo con le operazioni quindi blocchiamo dobbiamo finire tutti e tre step altrimenti non ci darà l'azione finita confermiamo il blocco dei nostri ed ecco qua che abbiamo finito adesso non dobbiamo fare più niente infine l'ultima azione che vi consiglio di fare è quella di andare su questo sito che si chiama guild.xyz Arbitrum che è una sorta di tra le qualità gilda che vi permette di ricevere dei ruoli sul server Discord di Arbitrum quindi innanzitutto voi entrate all'interno del server Discord se non ci siete una volta che vi siete collegati avete ovviamente fatto la verifica sul server quello che potete fare è completare tutte queste task qua che trovate in basso per ricevere i vari ruoli ovviamente ci sono molte persone nel server che hanno tantissimi ruoli personalmente ne ho fatte 3 o 4 ad esempio ho il dare almeno 0,001 link quindi vi basterà andare sostanzialmente ad acquistare su Uniswap come abbiamo visto prima 0,001 link che sarebbero uno shiny link che costano praticamente millesimi di centesimi e ovviamente detenendoli e tornando su questa piattaforma vi darà la disponibilità in automatico andrà a collegare il vostro wallet quindi voi andate su questa piattaforma collegate il wallet facendo i vari i vari step che vi chiederà vi dovrete unire al Discord collegare il wallet collegare il vostro account Twitter una volta collegati in automatico la piattaforma andrà a vedere quali requisiti soddisfate sostanzialmente io quindi detengo almeno un 0,001 link ho partecipato in questa campagna di Odyssey Galaxy ho almeno un 0,01 Lpt all'interno del wallet 0,01 SPA quindi tutti i vari token poi più ne completate meglio è ovviamente e andando a completare vedete Umani Finance che sono i protocolli che vi dicevo prima quindi GMAX per questo vi dicevo anche di comprare questi token adesso a me dice no access perché non ce l'ho quando vi dirà quando ce li avrete ovviamente vi dirà access cliccate sul sul tasto e ovviamente all'interno di Arbitrum del server Discord quando andrete all'interno del server riceverete i vari ruoli li troverete ovviamente a fianco al vostro nickname tutti i vari ruoli che vedete qua questi sono tutti gli step da fare per essere probabilmente elegibili per l'Airbox ovviamente più azioni farete più protocolli utilizzerete molto più probabile sarà la vostra riuscita a ricevere l'AirDrop se vi piace questo genere di video ragazzi volete magari altri video tutorial sugli AirDrop fatemelo sapere nei commenti per me è molto molto importante e ovviamente lasciate like al video se vi è piaciuto per supportarmi come sempre iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social arriverà in questi giorni il video tutorial per farvi vedere come io trovo i migliori AirDrop da seguire passo passo ci vediamo al prossimo video